Il Crotone ha comunicato di aver acquisito le prestazioni del 28enne Federico Viviani. Il difensore nato a Pisa arriva al Crotone a titolo definitivo, firmando con la società Rosso Blu un accordo biennale. Viviani, che in questa stagione ha collezionato 18 presenze col Taranto in prima divisione, può vantare 45 presenze in Serie B con la maglia del Pisa dal gennaio 2008 e durante la stagione 2008 e 2009. Nella sua carriera il neodifensore Rosso Blu ha anche indossato le maglie del Lanciano, del San Sovino e della Juve Stabia fra prima e seconda divisione. Quindi comincia a prendere corpo la nuova rossa del Crotone, che necessariamente deve essere completata, sì prima della chiusura del calcio mercato fissata al primo febbraio, ma anche e soprattutto prima di venerdì. Le partenze di Scogna Miglio, Alcosenza e di Conda Natteo alla Ternana hanno svuotato il reparto difensivo, che per il recupero dovrà far ricorso a Grillo, già presente prima squadra fino a quando non fu possibile recuperare l'infortunato Morleo e molto probabilmente al neoacquisto Viviani. In ogni caso il direttore sportivo Ursino è sempre attivo e pronto a chiudere le diverse trattative, contatti che, appena portati a termine, porteranno a Crotone altri due difensori e molto probabilmente un altro attaccante. Il nome della punta che circola insistentemente e che potrebbe essere il tocco finale di questa campagna acquisti invernale rosso-blu è quello di Ginestra del Ghellipoli, che Giannini potrebbe scaricare solo in caso però dell'arrivo in giallo-rosso di un omologo che voci di corridoio avrebbero indicato in Margiotta del Vicenza. E' notorio anche che sullo stesso Ginestra c'erano puntati gli interessi del Brescia, che era pronto a spedire Caracciolo in Serie A, ma che, definito incedibile, avrebbe lasciato cadere le offerte per il Ghellipolino, che a questo punto degli incroci potrebbe venirsene da noi, sempre a patto che le volontà del calciatore siano il più vicino possibile alle offerte del Crotone. Sono i giorni più cruciali questi ultimi del calciomercato, che da oggi a lunedì prossimo potrebbero cambiare le sorti di numerose formazioni. E anche se si valutava e si prende atto che il Crotone è stato formato adeguatamente ad inizio stagione per affrontare il difficilissimo campionato di Serie B in questa annata più livellato che mai, non si può non capire che, come detto, è doveroso fare in modo di non tralasciare nessun tentativo, come del resto crediamo che i massimi dirigenti rosso-blu stiano perseverando, per far sì che il Crotone non abbia più che a soffrire la carenza di validi sostituti. E pensando proprio all'ERDA e alle sue ragioni che gli impongono di schierare sempre gli stessi calciatori, fatta qualche piccola eccezione, ci rendiamo conto, capendo le sue esigenze, che per puntare ad un qualsiasi obiettivo stagionale il Crotone deve essere potenziato. Tra scolifiche che spesso ci hanno penalizzato, infortuni e malumori, fatti comprensibili in qualunque società, avere validi calciatori pronti a non far rimpiangere i titolari è il principale obiettivo della società. Risucchiati nei bassi fondi della classifica, i crotonesi hanno bisogno di riprendere a dare continuità ai risultati, avendo le potenzialità tecnico-tattiche di potersela giocare alla pari con tutte nelle migliori condizioni, migliori condizioni che inevitabilmente passano anche da una rosa completa e competitiva. Mancano pochi giorni alla fine delle trattative, siamo sicuri che il Crotone, alla fine, sarà ancora più competitivo.